Rulatrici, buongiorno! Bentornati a un'altra puntata di oh che bel con l'ostello martendiron di rondello il format con il nome più bello del mondo di cui non mi ricordo assolutamente nulla sarà tipo un mese che non giochiamo più quindi non ho idea di dove eravamo rimasti ma ma in questo caso tornano in aiuto gli appunti perché non mi ricordo proprio un cazzo quindi adesso prenderò gli appunti e vedrò dove eravamo rimasti io non so se voi vi ricordate qualcosa mi ricordo solo che erano stati dei casini devastanti mi ricordo due puntate fa che avevo preso tante quelle pizza in faccia da star male quindi stasera, anzi stasera, stamattina vorrevo tornare a vedere gli appunti vedere dove eravamo rimasti e rivedere anche la scheda personaggio perché non mi ricordo nulla ho qua per fortuna il manuale che mi aiuterà, mi verrà il mio soccorso per qualsiasi informazione e vedere in che morte morire, prima di tutto però prendo un pacchetto di fazzoletti perché se no muoio, muoio male sono più previdente di quanto pensassi allora ciao docta ah non figurati se tu manchi filo a queste puntate qua allora vediamo un pochettino vediamo dove eravamo rimasti vediamo prima la scheda che non mi ricordo allora seconda sessione ok tre tesori elmo con la torre sconfitta capacità di levitare e di staccarmi il pugno una bussola magica d'oro e pietra va ricaricata con un nucleo di torre e permette di chiamare un gargoyle volante martello gigante torcino ah torcino si era la torcia che che illuminava ciao goblin vediamo gli appunti va allora vediamo gli appunti che dovrebbero essere qua eccoli voi non li vedete però in realtà ci sono ve li leggiamo allora nella sessione tre villaggio dei gargoyle membri del colostello il mare di nuvole inizio a surfare colostello e mi imbatto in una tempesta trovo uno ieti nei cieli erudito e mi curo con il muschio azzurro ok mi sto ricordando dei senza volto mi rapiscono e arrivo su un'isola piatta che si muove che mi rendo conto essere una torre la cima di una torre e vado con un pugno dalla prigione con un cadavere ok nella prigione c'era il cadavere entro in una stanza circolare si chiude precipito un enorme bracere sono dentro una torre infuocata una delle torre quelle incredibili esco e combatto con un soldato pulpureo mentre precipito rioriescono a uccidere e mi salvo un gargoyle che mi porta sulle travi ancora più in alto che sono fitte giù in vegetazione e c'è un clima affoso vabbè dai un ci becca almeno almeno riusciamo ad avanzare un pochettino assieme quindi adesso mi ricordo quindi siamo arrivati su delle tranni a fose quindi clima tropicale e non mi ricordo un cazzo la scheda personaggio come sono messo con la scheda personaggio allora eh torniamo adesso qua su roll 20 per le carte e vediamo un pochettino la scheda personaggio come ero messo e dai sono a 3 e 3 3 di combattimento 3 di esplorazione che non so se vi ricordate eh sì per il braccio è potenziato infatti il braccio adesso ho mi posso staccare il pugno scriviamo qua l'ultima sessione sessione eh 5 del mh 13 giugno 13 0 6 20 23 ok ho martello gigante ho il torcino ho 3 tesori quindi vediamo un pochettino dove mi porteranno dove andrò oggi dove mi porterà oggi il fato devo pescare 3 carte un 10 di cuore un orc miseria è già un'altra torre e che cazzo però ragazzi oh ma perché è così gigantesco ah ecco perché adesso è tutto più chiaro molto più chiaro hop 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 hola adesso è tutto più molto più chiaro allora vediamo un pochettino che cosa succede ve lo metto anche qua a voi così anche voi potete vedere la pagina è là mi ricordo ragazzi non ci gioco da quando abbiamo giocato assieme l'ultima volta quindi pagina 24 e 25 allora abbiamo un 9 di fiori un 9 di cuori un enorme scheletro sembra umanoide ma non è possibile giusto ed è un luogo sicuro è un enorme scheletro troviamo un enorme scheletro con il 9 di cuori con la donna di cuori troviamo non so già purtroppo la donna di cuori è una torre media che potremmo provare a combattere se vogliamo se ci va e poi con il 10 di picche arrivi in una città un insediamento grande come non è mai visto gli edifici sono costituiti con parti di torri ci sono veicoli motorizzati e marchi ingegni in ogni angolo ma anche negozi studiosi e cacciatori è un luogo di commercio e cultura se usi regole per la città considera questo luogo abbandonato altrimenti continui a esplorare questo incredibile insediamento ragazzi dobbiamo fare una città era anche ora che trovassimo un altro cazzo di città non l'ha trovata solo una allora visto che non c'ho voglia di combattere anzi no mettiamo la chat combattiamo pure no perché sennò farei che la città è all'interno di questo enorme scheletro e sotto di noi visto che siamo sui Trigginalto sta passando una torre oppure facciamo proviamo a fare un combattimento sta a voi scegliete voi cosa volete fare vedo che nessuno scrive quindi non combatteremo bene per una volta possiamo anche non combattere andiamo alle regole delle città però così almeno ci esaltiamo un po' facciamo un attimo una città 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 ricordo sul 31 allora oppla là costruire città c'è un 10 un fanto un regino un re ora pesca altre carte per definire il resto della città otto carte allora queste qua le posso eliminare un 9 un 7 un 5 secondo mi serve un 8 10 3 sono troppe facciamo intanto queste qua ok cance è un 4 così vediamo cosa ci viene fuori con le città noi sappiamo che abbiamo allora un 10 un 10 diciamo un quartiere residenziale un mercanto una taverna e una gilda dei cacciatori il che è molto buono quindi in più abbiamo un 5 un 7 un 4 un 9 vediamo a cosa corrispondono allora un 4 un cartografo questo saggio topo di biblioteca si dedica al difficile compito di mappare le terre intorno alla città si rivolge spesso al cacciatore per ottenere informazioni che non può recuperare da solo offre due tesori per la mappa di una nuova regione puoi ottenere questa missione per sorgendere i cacciatori tracci una mappa nel percorso fatto durante le tue avventure stiando tutti ciò che trovi durante le fasi di esplorazione e consegnandola al cartografo ok 7 nido di torrini non so cosa sia dopo vediamo 5 armaiolo puoi migliorare la tua arma per due tesori puoi costituire una nuova arma aumenta di un altro numero di combattimento noi abbiamo 3 tesori da spendere dopodiché 9 case in vendita case in vendita non possiamo ancora permettercela se non sbaglio possiamo farmare possiamo tornare a farmare e vediamo cosa c'è nido di torrini molte città di colostro ci sono i nidi di torrini luogo in cui molti cacciatori incontrano il loro primo torrino e alcuni cittadini recuperano manovalanza a basso costo per la relatività o le mansioni domestiche puoi usare la seguente tabella per scambiare qualsiasi torrino adottato nei tuoi viaggi con uno nuovo in alternativa per due tesori puoi comprarne uno ciao Nico cosa facciamo ragazzi io ho due tesori io un torrino ve lo comprerei vi dico la verità vediamo che tipo di torrini ci sono ve lo zoom così lo vedete anche voi allora somiglia a un ragno con se zambe ha forma di palla e rotola è telescopico ha un grande occhio luminoso è veloce alle ruote è molto amichevole ha potenti gambe a molla si divide in tre parti sembra cattivo ed è ricoperto di lame flutto logicamente ha una misteriosa porta sul davanti ogni tanto emette borbutin incomprensibili ditemi voi cosa volete facciamo compriamo un torrino potenziamo le armi e andiamo a farmare come dei pazzi e poi lanciamo per vedere che cosa viene fuori che quest ci da la gilda degli esploratori cosa vorreste fare sapete che faccio quello che volete voi quindi ditemi e io lo farò il torrino è bello perché poi ci apre un'altra classe possiamo fare il il domatorri il torrino può agire come un'arma potrebbe lanciare magie di ghiaccio tramutarsi una sfera e schiacciare gli avversari entrare in una torre nemica e danneggiarla dall'interno oppure scagliare qualcuno in aria così che tu possa colpirlo al volo oh grazie mille grazie cave per il super ride grazie grazie dome grazie stiamo giocando ragazzi a colossal è un gioco di ruolo in solitaria stiamo giocando con la chat si fa tutto pescando delle carte un ci becca compriamo un torrino ci sto dai ragazzi vediamo che cosa viene fuori compriamoci un torrino andiamo all'avventura dobbiamo andare a farmare dobbiamo andare a farmare assolutamente oggi perché sennò sono cazzi non abbiamo tesoro non abbiamo nulla e io voglio comprarmi una casa in città allora lanciamo una carta a caso vediamo cosa viene fuori sul torrino 3 allora il 3 vediamo cosa mi dà il 3 come torrino 3 è telescopico si allunga e si accorcia che top telesco mi piace voglio chiamarlo telesco mi esalta segniamolo subito nella scheda PG ragazzi allora note dell'avventura inventario un torrino di nome telesco dopodiché visto che in città c'è anche la gilda dei cacciatori andrei a vedere di qualche quest perché sennò non vedo come fare la gilda dei cacciatori allora per creare una missione del tuo personaggio puoi intraprendere della gilda segui queste decisioni luogo indica dove si trova la torre quindi devo pescare una carta e poi un'altra carta due carte devo pescare andiamo facciamolo subito vediamo un pochettino la gilda dei cacciatori è il 4 quindi due carte uno ciao romanzio un 5 è un re te pareva vaffanculo allora la nostra missione è luogo abbiamo tirato fuori un 5 in cima montagna scoscesa fiori tre fasi di esplorazione la madonna dopo di che colpo di scena re l'intero villaggio ha sognato la stessa torre ma nessuno l'ha mai vista per ora la madonna cuori tre tesori allora tre tesori ragazzi bisogna andare a fare la stessa missione dobbiamo fare tre fasi di esplorazione per andare a cercare questa torre dopodiché è una torre che tutti quanti in questa città hanno sognato quindi io direi che la notte andiamo a riposare in locanda e sogniamo questa torre tiriamola a caso vediamo che torre viene fuori creazione della torre eccola qua per i combattimenti un attimo che la cerco la pagina naturalmente è una torre colossale te pareva no? solito culo 49 facciamola assieme hop allora creazione di una torre una carta e due carte sempre sempre due carte vediamo un pochettino cosa ci viene fuori con la torre due carte una un asso che male che la vedo è terrificante sta roba due assi ma perché non mi vengo mai fuori delle carte decenti puttana bacca bastarda allora il primo è un asso di quadri quindi nasconde si nasconde mi nasconde no quella persona che cazzo dico creazione di una torre quadri è una torre glaciale ed è una torre d'attacco la seconda colpisce a distanza uuuuh fiori e mi dà un braccio posso prendermi un nuovo braccio da attaccarmi ragazzi un braccio di ghiaccio questo è molto interessante sono molto stanco dopo aver raggiunto questa città questa città è una città essendo una zona estremamente ubida siamo sulle travi a parecchie centinaia di metri d'altezza all'interno di questa stanza gigantesca del colostello c'è un gigantesco scheletro di una creatura evidentemente che è morta qua a secoli fa e all'interno è stata costruita questa città finalmente dopo svariate settimane di avventure posso dormire in un letto vero e quella notte però ho uno strano sogno sopra una montagna in nevata c'è questa torre di ghiaccio che continua ad attaccarmi è una torre relativamente piccola ma è fatta totalmente di ghiaccio e mi colpisce a distanza mi sveglio vado giù all'interno della taverna e sento mormorare in giro che tutti quanti hanno avuto lo stesso sogno mi dirigo la gilda dei cacciatori raccontando quello che ho visto e la ragazza che affida le missioni mi confida che tutti hanno avuto lo stesso sogno e per tre tesori se io riporto qua uno dei core del core della torre mi verrà andata appunto tre tesori e in cambio potrò avere l'innesto di un braccio di ghiaccio della torre sulla mia schiena decido di parteciparvi quindi ricordatevi torre media di ghiaccio che fa danni a distanza posso cancellare tutto il resto e partire con la prima fase di esplorazione mi dirigo solo i due assi per ricordarmelo come sempre ragazzi mischia shuffle uno due tre quando mi serve allora prima fase di esplorazione vediamo dove mi portano le carte la prima carta è un 5 vabbè intanto andiamo il 5 di fiori allora funziona una grande bizzarro meccanismo che sembra attivare qualcosa all'interno del colostello è formato da tubi ingranaggi e leve per quanto enorme credi di poterlo utilizzare se è danneggiato per aver bisogno di materiale per ripararlo lo trovo è un 5 di fiori quindi è danneggiato 8 di picche un mare il piedi sull'iscoglio e sulla spiaggia serve in questa enorme distesa d'acqua sembra arrivare fino oltre l'orizzonte ma in lontananza intravede ancora le colonne le travi del colostello è tutto all'interno di una stanza un mare un mare tra le travi sono molto curiosi a vedere come lo gestiremo e infine un 9 di fiori un 9 di quadri è mosso o no 9 di picche è calmo oh per una volta troviamo un mare calmo 9 di cuori un enorme scheletro sembra umanoide ma non è possibile giusto beh 9 di cuori il tento l'aveva trovato anche prima quindi ci sta grazie bove per il ride grazie mille ragazzi stiamo giocando a colostol un gioco di ruolo in solitaria e tutte le quest vengono date con le carte stiamo andando a farmare perché abbiamo bisogno di soldi siamo appena andati via da questa città all'interno di uno scheletro tanto che questo scheletro prosegue ce lo troviamo davanti a noi e tutta questa umidità si è formata in questa pozza d'acqua nella zona del bacino di questa creatura mitologica è gigantesca vicino al bacino riusciamo a trovare un bacino d'acqua bravo vedo che hai capito hai capito il gioco di parole bove bravissimo c'è un ingranaggio all'interno della seconda vertebra è danneggiato che oggetti ho per provare a ripararlo io sinceramente ho un po' di oggetti oh beh ragazzi scusatemi ho appena adesso appena preso Telesco il torrino che si allunga cioè è incredibile quindi vorrei proprio usarlo questo uso Telesco per riuscire a usarlo come leva lo incastro tra la seconda e la terza vertebra faccio leva e sento un rumore gorgogliante il bacino inizia a prosciugarsi e nel mezzo trovo quella che sembra effettivamente essere questo avvallamento ma forse non era ghiaccio quello che sognavamo era come questa montagna fatta di cristallo ma non c'è tempo da perdere decido di iniziare a scalare questo monte di cristallo una volta che il bacino si è prosciugato seconda fase di estorazione alla terza io so che sarò e troverò la torre quindi oh altre tre carte uno due tre sono sempre molto fortunato comunque allora vediamo un po' a cosa corrisponde andiamo prima con rossi cinque di quadri il cadavere di un essere umano chi era cosa indossava pesca una carta e consulta la tabella oggetti per capire cosa avesse con sé oppure consulta la tabella degli eventi per scoprire cosa accade bene poi grazie mille Lancelot grazie mille per la sub dieci di cuori è un accampamento gli occupanti sembrano persone hanno due gambe e due braccia ma non sono umani chi sono cosa vogliono però passo inosservato poi trovo il cinque di quadri scusatemi il dieci di picche un'altra città prospera e la madonna che culo però mi sa ragazzi che la schippo sta città dobbiamo andare per forza a farmare non possiamo fermarci in un'altra città lo sappiamo me lo segno nella mappa però dobbiamo andare avanti vediamo nella tabella 20 che cosa succede pesco una carta per la tabella 20 un bel 4 di picche vediamo il 4 di picche che cosa mi dà perché vaffanculo mentre mi arrampico a un certo punto vedo un'insenatura tocco tocco qualcosa non lo so è molto è morbido mi alzo quando davanti a me vedo un cadavere capisco che pian piano si sta cristallizzando mi sporco un pochettino in più con gli occhi e vedo che delle creature fatte di cristallo si stanno avvicinando verso il cadavere vedo che in fondo c'è anche una città mi sembra che sia costruita all'interno di questa montagna di cristallo ma ho da evitare di farmi vedere mi butto di nuovo verso il basso ma perdo la presa e inizio a precipitare per fortuna che il mio braccio ha vi ricordate ha una ha una lama attaccato mi riesce a fare perno col braccio sulla schiena e riesco ad oscillare nel vuoto mi sposto di lato capisco che la cosa migliore è evitare assolutamente questo luogo fine della seconda fase di esplorazione aspettate ragazzi aspettate che me lo segno negli appunti perché io faccio lo smargiasso ma non mi ricordo un cazzo allora città nello scheletro a Fosa missione compro il torrino compro il torrino Telesco poi missione alla Gilda per affrontare la torre di ghiaccio esplorazione dello scheletro bacino d'acqua e montagna di cristallo precipito per evitare la città delle creature cristallizzate se no se non prendo gli appunti non mi ricorderò mai un cazzo ciao Gianluca Casella ultima fase di esplorazione poi possiamo finalmente combattere questa torre media tanto col culo che ho sempre mi beccherò delle pizza in faccia di proporzioni bibliche non so neanche io perché belivo di riuscire a fare un combattimento umano queste carte qua quindi le possiamo andare a cancellare pesco le altre due carte altre tre carte ma una torre adesso torre ragazzi la schippa la velocità della luce ve lo dico allora la donna di cuori è sicuramente una torre che però non voglio combatterla se no suco una torre media o vediamo nove di fiori un indizio per il tuo prossimo passo questo è molto importante chiamata ti imbatti in un luogo importante per la tua chiamata nasconde forse un indizio oppure uno di quelli che stavi cercando un momento un momento un momento tre di picche una scala che conduce a un altro piano del colostello è gigantesca e anche solo risalirla siamo un'impresa tant'è che svanisce tra le nubi ogni gradino è alto come una casa chi l'ha costruita se questa è la prima scala che incontri poi questa è la sezione dedicata tra le sommità e raggiungere il tetto del colostello allora vorrei fare un attimo una piccola pausa perché così è come si può finire colson allora quando si incontra una scala la prima volta la prima volta che la incontriamo quindi non è non è il nostro non è il nostro caso ti fa capire che c'è una scala che porta verso l'esterno vi ricordo che io ho il gargoyle che posso usare posso richiamare il mio pet tra virgolette quando si incontra per la seconda volta la scala si va sulla sommità all'interno del manuale c'è il capitolo sommità dove si raggiunge le vette del colostello non è detto che sia il fine campagna però volendo ci può essere la fine campagna sto qua sta a voi salendo verso la montagna di cristallo vedo che c'è un braccio cristallizzato che esce di una torre tra le nubi che si propagano dalle travi vedo che effettivamente questo braccio probabilmente è stato utilizzato da qualcuno per raggiungere la sommità del colostello perché tra le nuvole vedo che ci sono dei gradini giganteschi ognuno alto appunto come una casa che danno verso l'alto la mano però è protesa effettivamente vedo che ci sono dei gradini stranamente rovinati qualcuno li ha usati assolutamente per attraversarsi sopra ma vi ricordo che io sto ancora cercando mia sorella non so se vi ricordate la mia chiamata la rileggiamo che da un poco non la vediamo un esercito strata versando le terre intorno al tuo villaggio hai sentito dire che è inarrestabile formato da uomini in mostruose armature nere e chiodate che bruciano tutto ciò che incontrano i cavalieri cremisi che abbiamo già affrontato svariate volte una notte arriva è il caos la gente urla e fugge i tetti delle capanne e le tende vengono incendiati illuminando il cielo notturno ma la cosa più terrificante sono le torri che eseguono gli ordini del generale i loro occhi ardenti a volte da fiamme purpure nessuno è mai stato capace di comandare una torre ancora in funzione come è possibile beh ragazzi ragazzi io direi che l'indizio che sto cercando è che appunto il motivo per cui non trovavamo più indizi sull'esercito purpureo e l'abbiamo trovato invece l'ultimo l'ultimo combattimento che abbiamo fatto ve lo ricordate l'abbiamo fatto su una torre colossale è perché appunto l'esercito purpureo è andato verso le sommità del colostello adesso però non ho nessun indizio che mia sorella sia con loro ma soprattutto sono debole sono affaticato quindi devo per forza equiparmi ancora però finalmente so qual è la mia destinazione finale la sommità del colostello non ho tempo da perdere il fatto di aver scoperto questi indizi mi mi esalta ho un combattimento da affrontare pian piano continuo ad arrampicarmi raggiungo le sommità quando vedo che c'è una piccola torre abbastanza tozza anche abbastanza bassa sarà alta non più di 3 metri e quello che pensavo essere di ghiaccio in realtà è una torre totalmente di cristallo voglio avere un cazzo di braccio di cristallo si gira verso di me non c'è altro tempo è arrivato il momento di combattere in collo suonera pagina 59 se non erro il combattimento fatemi un attimo controllare il cartaceo poi ve lo metto scontro 51 io come vedete sulla scheda personaggio ho 3 come valore di combattimento quindi estrarò 3 tasche non mi ricordo anche una torre media ne ha 3 c'è il rischio di wippare male perché non mi sono pompato il combattimento perché cazzo mi avete fatto comprare un torrino credi nel cuore delle carte si stichi però allora facciamo le cose per bene durante lo sconto devi apporre una delle tue opzioni a ogni carta di attacco all'avversario quindi io pesco 3 carte o beh un re un 3 e un 7 allora come si vince per vincere uno sconto devi rispingere la maggioranza degli attacchi dell'avversario pesco le carte dell'avversario cosa faccio? lo subisco o no? o mi gioco subito il re? ditemi voi ditemi voi il 10 è un attacco magico dal cui vedo partire la torre mi guarda allunga il suo braccio inizio a partire dei frammenti di cristallo estremamente accombinati bisogna subire prima di raggiungere i traguardi di Cergut ma io vorrei anche cercare di sopravvivere sai come mi sembra un attimino un po' cazzi astrali qua non voglio whipare se incassa l'asse incasso il corpo se lo difendo col 3 scusate voi non state vedendo l'altra carta è il 7 ok ho appena pescato un 10 del nemico o lo sconfingo con il re però dopo lo pesco le altre due carte e ho un 10 e un 3 è grigia eh è molto brutta come situazione no vaffanculo io devo recuperare mia sorella non ho tempo di incassare devo andare giù come un treno lo elimino con il re vaffanculo lui cerca di colpirmi con queste spirali di con questi frammenti di cristallo che mi arrivano accumulatissimi addosso ma subito estraggo il mio gigantesco martello lo pongo davanti a me e va a infrangersi contro i frammenti di cristallo secondo attacco della torre un altro attacco magico in questo caso però Emily la sua mano si ingrandisce mi va addosso per colpirmi io mi scanso a distanza stacco il mio pugno che va velocissimo contro il il braccio contro questo pugno magico del del della 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 torre di cristallo andandola infrangere lo paro col 7 la torre è gravemente danneggiata mi guarda capisco che è un ultimo attacco anch'io sono stanco e sono pronta a dare il tutto per tutto dio dei giochi di ruolo o due o un asso devi far uscire adesso e ci sono anche due assi che ho già giocato ma io credo in te un giocer che non vale l'ultimo purtroppo mi colpisce vado per dare il colpo di grazia ma una stalattite di cristallo accominata mi perfora che cosa cosa volete che vada ragazzi io vi toglierei via esplorazione non combattimento mi farei finire a una gamba quindi inzoppicherò per un po' mi ferisce a una gamba tenendo fermo col braccio la stalattite per non fare scappare la torre abbatto il mio martello contro di lei distruggendole la parte superiore e riuscendo col mio braccio di mattoni e metallo a estrarle il core nell'esatto momento in cui estraggo il nucleo della torre questa si spegne e lo metti in saccoccia hai ragione ho tolto il combattimento devo togliere l'esplorazione ok grazie mille grazie grazie Giacomo perché se no non avrei tolto l'esplorazione lì sono ferito a parte che se sono stato stupido potrei usare il torrino ma vabbè non sono abituato ancora a avere il torrino io posso tornare indietro e poi tornare qua eh cosa volete? volete che torniamo in città? se torniamo in città torniamo diretti no? non è vero che torniamo in diretti devo fare altre fasi di esplorazione perché io non ho ancora altre trasporto ma arriviamo e abbiamo quattro tesori quindi posso ripomparmi bene l'arma e aumentare sia l'esplorazione che il combattimento e posso dormire rifullandomi torniamo in città do un'ultima occhiata alle scale ho recuperato un grande indizio segniamocelo subito trovo delle scale che so che portano alla sommità inoltre sconfiggo la torre di cristallo che mi ferisce le gambe ok perfetto allora per tornare alla città sono altre tre fasi di esplorazione in esplorazione o due dovrebbe essere abbastanza veloce posso togliere adesso anche gli assi un'altra torre e un otto di picche ma la torre è quella che abbiamo incontrata prima quindi ha anche senso logico questa cosa qua il luto abbiamo preso il braccio bravo bravo sticky cat bravissimo 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 madonna mia mi sto rinando luto braccio di cristallo così dopo potrò avere due bracci due braccia due bracce allora nove di picche no cos'è scusatemi eh otto di picche il mare vabbè effettivamente ritrovo quello che ho trovato prima sconfiggendo la torre mi piace il bacino si ricrea e anche la torre che è all'interno vedo che la torre che è bloccata che va a coprire così invece il braccio quindi non riesco più a vedere le scale anche le scale vengono sommerse si ricrea esattamente quindi capisco che ogni volta che questa torre viene sconfitta o che una torre o un pezzo di cristallo grande viene staccato il bacino si ricrea attraverso di nuovo il mare di cristallo il mare scusatemi il bacino di questo scheletro la città è sempre più vicina 9 di cuori e 5 di quadri allora 5 di quadri il cadavere di un essere umano chi era cosa indossava qua però qualcosa non va quindi lancio sugli eventi subito così vediamo cos'è che non va 9 di fiori un 9 qualcosa si rompe no mi si rompe un oggetto che palle e 9 di cuori invece un enorme scheletro perfetto ritorno ritorno a tutto esattamente come prima no no non aumento il valore di combattere esplorazione vittoria hai ragione mi sono dato un tesoro invece del coso bravo bravo stichi stichi oggi se è il mio veramente la mia lore il mio bigino delle cose cosa aumento io aumenterei combattimento sapete aumenterei combattimento qua i cazzi mi rendo conto che il combattimento si è sempre più cazzuto quindi devo aumentare il combattimento specialmente se vogliamo farmare adesso per un po' trovo il cadavere di prima il cadavere cristallizzato e noto una cosa mi abbasso per vedere perché vedo una delle chiavi dell'esercito purpureo vado per prenderla ma mi si sgretola in mano forse questa era una delle chiavi che si va per entrare dentro le torri incandescenti vi ricordate io ci sono precipitato dentro e ho dovuto sfondarla dopo per uscire creando non pochi disagi quindi questa qua purtroppo non sono riuscito a ottenere la chiave nut ma davanti a me finalmente riesco a ricominciare a trovare lo scheletro che mi porterà alla città di prima ultima fase di esplorazione 3 di picche 10 di cuori 10 di cuori è un accampamento passo inosservato questo va benissimo e il 3 di picche invece una scala che conduce all'altro piano del colostello è gigantesca e anche solo risalirla sembrano in presa tanto che svanisce tra le nubi ogni gradino è alto come una casa chi l'ha costruita se questa non è la prima scala che incontri puoi consultare la stazione dedicata alla sommità e raggiungere il tetto in caso contrario arrivi solo ad un altro punto del colostello anche qua allora devo ah devo recuperare tutte le tarsi perfetto mischia e mi sembrava strano che uscissero le stesse carte ragazzi non avevo mischiato nel carto ci sono le ultime 10 e ricomincio a ricominare verso la città le scale le vedo sempre a est so che sono a tre giorni di rimarciare qua vediamo se dopo vogliamo andare da loro oppure no ritorno finalmente nella città dove ero prima vado alla gilda dei cacciatori alla quale consegno il core prima ricarico la bussola vi ricordate posso ricaricarla col core dopodiché consegno il core alla gilda dei cacciatori che mi da tre tesori adesso io ho quattro tesori che posso spendere in città come come li posso spendere ci sono anche degli oggetti che possiamo andare a comprare dal mercante il mercante è presente sono molto fighe vi faccio alcuni esempi pagina 38 allora abbiamo i guanti torre la pozione misteriosa che rimuove una ferita palo telescopico spada elettrica un deltaplano vale tre tesori un lanciacavi può fare inciampare una torre un'armatura a guscio una meteopiedra non lo so la casa non compriamo mai se no le case costavano un botto venti tesori allora noi adesso abbiamo davanti a noi due opzioni la prima continuiamo a farmare quindi vado in continuazione alla ricerca di missioni da parte della della gilda e vado a farmare che non sarebbe male farmare qua perché se riesco a comprare una casa in questa città da parentesi non abbiamo dato un nome a questa città come possiamo chiamarla un secondo che tanto a giorno inoltre ho anche un tesoro per avere sconfitto la legia quindi ho cinque tesori adesso scusatemi ho cinque tesori ne avevo spesi due cinque tesori uno per la sconfitta più tre cinque tesori new luckia no new luckia è una merda di proporzione devastante è una città che è molto umida a fosa tra le fronde di questo scheletro però è costruita tutta con muschi e licheni quindi diamogli un nome che sia qualcosa che abbia qualcosa di un tropicale o roba del genere Barry Skeleton qualcosa del genere quindi Padova ok ho riso molto quindi si chiamerà Avodap la città di Avodap ovviamente la città di Avodap ditemi voi continuiamo a farmare o continuiamo a o ci avventuriamo per le scale senza smettere di farmare non ho mai fatto non sono mai arrivate alle sommità cioè io quella che sto giocando a casa mi sta durando un botto di tempo quindi non ho idea di come siano le sommità rieccomi pranzo dipende allora volete che leggiamo assieme cosa succede sulle sommità non lo so neanch'io pranzo andato alla puttanesca beato te sei mangiato la pasta leggiamo assieme le sommità sono emozionato per le sommità vi dico la verità pagina 41 così poi decidiamo il da farsi incontri sulle sommità non leggete questa sezione finché il tuo personaggio non ha raggiunto le sommità nel corso dell'avventura pochi avventurieri arrivano così lontano questo luogo non è stato ancora descritto da alcun libro di storia né disegnato da alcun cartografo né descritto da alcun cantastorie si vocifera di eroi giunti fino al tetto del colostello ma nessuno di loro è mai tornato di conseguenza le sommità sono divenute sinonimo di al di là un paradiso dove i cacciatori cacciatorri si ritrovano dopo la morte ho appena ricaricato Docta volendo ho ricaricato il gargoyle quindi non ho un problema per mai salirlo zero quindi leggiamo e vediamo dopo se farmare oppure oppure continuare qua il tetto nel colostello è immenso in un eterno crepuscolo senza luci che diventano più o meno intense come i braceri delle stanze il cielo è sempre buio illuminato da milioni di piccoli punti luminosi guardando oltre il tetto si intravede una complicata serie di difese un enorme cortile piatto e colossali torrioni rovina a perdita d'occhio ci sono tracce di vegetazione alberi che crescono dalle alcove delle torri o erba e fiori che ricoprono i tetti più piatti ma il resto sembra una prateria brulla e sterile battuta dal vento gli alberi hanno poche foglie e somigliano a maglie ossute che tremano al vento dispersi in questa distesa ci sono alcune piccole torri ed edifici squadrati e merlati che conducono i piani inferiori o nascondono strani tesori e artefatti tuttavia la cosa più sospetta per i cacciatorri è l'apparente assenza di torri nessuna vaga con passo pesante per il tetto come invece fanno in tutte le stanze inferiori o così sembra finché non resti troppo a lungo allo scoperto sotto la luce delle stelle ci sono molti ripari dove nascondersi e arrampicarsi ma se rimani sotto il cielo per troppo tempo ok arrivano le torri astrolitiche le torri astrolitiche cadono dal cielo come carboni ardenti dirigendosi verso di te con una precisione spaventosa e fermandosi un istante prima dell'impatto quindi estendono gli arti e fluttano a mezz'aria ancora roventi per l'accelerazione ecco quale torri di roventi ogni tanto potresti incontrare anche altre persone tribù di nomoni che tentano di sopravvivere sulle sommità mentre cercano una via per tornare nelle stanze raccontano che nessuno abbia mai affrontato le torri astrolitiche incredibilmente forti e troppo calde per essere anche solo toccate tutti le evitano per cui si appaiono scappa per sopravvivere sulle sommità occorre evitare il più possibile le torri astrolitiche per questo i suggerimenti per gli incontri prevedono che tu resti nascosto nero o che ti esponga mettendoti a rischio rosso se nella fase esplorazione peschi tre o più carte rosse gli sorvi gli incontri ma corri il rischio di dover pescare sulla tabella esposizioni prima di farlo devi decidere se intendi rischiare ad esplorare questi luoghi oppure restare al sicuro se resti al sicuro racconta nel diario come passa il tempo nel tuo nascondiglio tuttavia così facendo potresti perdere eventuali scoperte che avresti potuto trovare in questa fase di esplorazione poiché devi rispirare una nuova mano di carte se decidi di rischiare preschi un'altra carta e consulta la tabella esposizione a pagina 43 sinceramente mi sembra un po' cazzi detto così tra noi dovrei affrontare delle torri astrolitiche non lo so io così quasi me ne tornerei indietro a far male forse la cosa migliore non so come sarei stata delle torri astrolitiche guardate che la torre più forte qua ha 5 e già sono cazzi astrali con 5 allora ora di torri in conbigo dipende da cosa servire più utile per trovare la sorella non è una brutta idea ci vogliono armature io sgraverei vediamo scusatemi non è che sgraverei vediamo com'è il mio pg non giocandolo da un po' di tempo vediamo come sono i suoi tratti allora è astuto strategico pianifica continuamente io direi di far male ragazzi direi veramente di far male cioè io vi dico porterei a 5 combattimento e a 3 esplorazione mi faccio installare l'altro braccio quindi un braccio di cristallo indistruttibile ho il torrino capire come utilizzarlo e volendo potrei comprare un deltaplano o qualcosa esatto è più linea con il personaggio sono sono d'accordo tanto so come arrivare qua adesso so ce ne devo sempre trovare in questa città basta farmiamo torno indietro e via vado a vedere cosa c'è sopra le scale vado a vedere cosa c'è sopra le scale ma non mi faccio lasciare qua dal gargoyle ma gli chiedo di portarmi indietro perfetto che restano in tutto ciò 2 10 perfetto abbiamo ancora un po' torniamo alla gilda dei cacciatori abbiamo bisogno di far male come dei pazzi quindi pagina pagina giro dei calciatori 34 no prima però posso andare a prendere armi e altre cose ho 4 tesori ho pagina eccolo qua eccolo qua in questa città c'era un cartografo questo saggio tipo di biblioteca per la mappa di una nuova regione per ottenere questa missione posso agire dei cacciatori traccio una mappa del percorso fatto durante le tue avventure se tu c'è stato in fase di esplorazione consegnare al cartografo ok ah mi dà 2 tesori perfetto io tornare indietro becco anche 2 tesori da sto stronzo top ho altri 2 tesori ho scritto tutto quello che abbiamo visto quindi non ho 5 tesori ne ho 7 quindi ogni volta c'è il cartografo ogni 2 3 sono stato poi c'era l'armagliolo con un tesoro mi aumenta di 1 il valore di combattimento con 2 tesori aumento di 1 il valore di combattimento e una nuova arma io personalmente ma cosa faccio spendo 2 tesori e mi faccio innestare anche l'altro braccio così il resto io ho un braccio il mio di bionico attaccato mi faccio attaccare un braccio di cristallo dietro che ha un'arma e aumento di 1 il valore di combattimento spendendo 2 tesori ne ho 7 cosa ne dite così fullo combattimento e poi si torna a spaccare tutto io mi farai innestare il braccio tanto ho il libro anche per farmale innestare vi ricordate che l'ho preso da mia sorella allora rinforziamoci allora ma ti dirò ornitorinco se io tengo l'esplorazione bassa estraggo meno carte e ho più possibilità di andare avanti più velocemente se vogliamo andare a esplorare le osservità non sarebbe male per esplorazione posso fare altre altre avventure ovvio oddio voi non potete capire cosa ho trovato innestare e keep sarò d'accordo anch'io allora vediamo bene l'innesto e le keep allora con due con due tesori aumento di uno il valore di combattimento e mi innesto il braccio braccio di chi sta all'innestato 25 combattimenti e mi tolgo due tesori dopodiché c'era il prezzo eccolo qua al prezzo di no costa 5 tesori ne ho 7 ne ho 5 dovevo spendere tutto armaturo e mi previene una 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 ferita durante ogni fase di combattimento mi sembra avevo sgravato quindi per andare sempre una ferita in meno io direi di di spenderli tutti tanto la casa ormai penso che non ci stiamo più credendo molto nessuno no io ve lo tolgo tanto far male armatura a guscio prevengo una ferita ok prevengo una ferita gendere cacciatore andiamo a farmare qualcosa o con 5 in combattimento proviamo ad andare a fare il culo e tre armi proviamo ad andare a fare il culo alle torri dell'astronitica ditemi voi prima di scendere sommità Paul Paul due minuti andiamo ci sono altre tabelle per la per la sommità non è che io arrivo e c'è lo sconto finale no no bisogna andare in giro ancora ma allora guarda allora noi sappiamo adesso abbiamo beccato l'informazione che i cavalieri cremisi sono andati sulle sommità abbiamo trovato le tracce quindi le sommità non è un'idea un'idea così stupida comunque vi ho messo il pole scegliete voi a me va bene tutto quanto basta giocare assieme intanto sto gioco è meraviglioso ti dà tutto ti dà tutte le inti io lo amo un libricino e ti fa ruolare come un imbecille una campagna poi è proprio divertente vediamo se è venuto fuori il pole quasi tutti i farming quindi vediamo un po' oddio noi siamo messi al massimo adesso eh con il picchiaggio quindi non è messo male per andare a picchiare però lo sai lo sai figlio io faccio quello come fare la chat quindi non è che a me basta ruolare e sono contento tutti i spunti in più dal cello non spunta il pole ma no ragazzi è parità farming e sommità è totalmente pari manca pochissimo niente 50 e 50 esatto quindi decideranno i dadi i dadi di passione della passione pari sommità dispari farming pari ragazzi 6 si va sulle sommità sappiamo che l'esercito è andato su verso le verso la sommità il contatto che ho avuto con mia sorella è che vedevo lei che era stata rapita non ho trovato cadaveri umani mi sono spaventato lui su quel carattere prima ma era una creatura cristallizzata non era mia sorella quindi andiamo sulle sommità e tiriamo allora quando sono sulle sommità pagina 42 si pescano delle carte e ne devo pescare due quando le pesco di rosse come funziona allora 3 o più carte rosse risolvo gli incontri ah se no mamma mia che brutto mamma mia che brutto proviamo proviamo la prima carta rossa ti pareva seconda carta nera bene allora vediamo che cosa trovo quindi devo segnarmi che ho pescato una carta rossa perché alla terza ho una strutonre 1 in compenso ho una donna incontri sulle sommità allora donna benissimo conto come una carta rossa a prescindere dal colore meraviglioso meraviglioso che culo il 6 invece una foresta sul tetto il riparo ideale dalle torri astroditiche le nodose radici degli alberi stretti gli uni agli altri si fanno strada tra i coppi tutto è silenzioso qui non c'è vento ma potresti trovare qualche animale da coccolare ho provato a trascinare il suburbano me ne trascina cazzo eh docta non ho tempo per nascondermi sto vedendo quella che mi sembra essere la torri astroditiche precipitare verso di me mi dirigo verso ho capito che quelle che noi temevamo essere le torri infuocate altro non sono che torri astroditiche utilizzate dal generale e signori è la terza carta rossa perché la donna vale come carta rossa allora quando pesco tre carte rosse io l'esploro stai sicuro devo pescare una carta e confrontarla con la tabella esposizione a pagina 43 che ve la faccio vedere ok peschiamo nove di fiori pioggia di meteore come sono fortunato tonnellate di detriti cadono dal cielo forse erano frammenti di una torre ma ora sono mortali sfere di fuoco non c'è ancora un ripare subisce una ferita no qua che subisco la ferita perché ho preso la mia torre guscio e per ogni azione ogni scena posso togliermi una ferita quelli quali non ho combattuto non prendo nessuna ferita pezzo di merda godo quindi posso continuare a esplorare non ho mai visto un luogo come questo è veramente particolare è tutto ancora intatto scuola posso cancellare tre di quadri come sono fortunato due di picchie bene quattro di fiori tre di quadri sempre nella cartellina nella tabella quella degli incontri però ho pescato tre di quadri arriva in margine di un bastione guardando di sotto vedo un labirinto di tetti piatti a punta con torrette meri ovunque per proseguire devi rampicarti da un tetto all'altro non ci sono problemi perché tanto io ho il mio braccio allungabile ho anche il telescopio quindi va benissimo inizio a saltare a destra e a manca ma sono esposto ai rischi quindi devo mettermi una barretta ok dopodiché due di picche tetti bruglia parita d'occhio dovete trattarsi del piatto di una stanza qui ci sono ben pochi ripari bene però e poi quattro di fiori in cima è un tetto che stai attraversando c'è uno strano edificio è simile un piccolo castello pesco un'altra carta sei nera trovi un oggetto altrimenti una persona ferita in perdita paura si nasconde al suo interno ho trovato un oggetto ho trovato un oggetto che oggetto sarà mai peschiamolo nove adesso gli oggetti trovo la parte di un macchinario non mi lamento mi ritrovo davanti a me questa lunga distesa di torri di torrioni di merletti non ho idea di come attraversarla ma penso ehi adesso ho telesco con me lo uso esattamente come se fosse un salto con l'asta quindi corro incastro l'asta sotto un torrione e mi butto dall'altra parte e così inizio a proseguire in giro tutto quanto finché arrivo davanti a quello che è un piccolo macchinario non riesco a capire cos'è ha le fattezze quasi di un ingranaggio me lo metto in saccoccia quindi andatemi a far segnare subito ingranaggio qua tra le cose che ho preso ingranaggio mentre salto da un torrione all'altro ok fase di esplorazione sono a una rossa mi sta andando anche abbastanza di culo dai 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 nico se qua le posso cancellare una eccola qua tre eccoci qua che bello tiro per esposizione cinque di fiori ragazzi non ci sto credendo silenzio inquietante non accade nulla ti è andato bene tendo l'orecchio cerco di capire qualcosa sento solo un silenzio quando sento una voce dentro di me fratello siamo sullo stesso piano capisco di essere sulla strada giusta mia sorella mi ha appena parlato e il nostro legame solo quando siamo vicini funziona così bene e possiamo comunicare tra noi dopodiché si interrompe qualcosa o è la torre in movimento o sta succedendo qualcosa ma sono sicuro di essere sulla strada giusta sono sicuro che a breve combatterò una torre astrolitica e mi sento pronto ma soprattutto sono sicuro che mia sorella è vicino a me bene signori con questa chiusa andiamo a finire la quinta sessione ma in realtà è il sesto episodio di Colossal il nostro gioco di ruolo in solitaria che stiamo giocando ormai da quasi 16 ore che non è per nulla male per essere un giochino in solitaria me lo segno subito quando è riassunto quello che è successo e sinceramente è una sorpresa ogni volta eh stichino sarebbe male silenziosa dove non combatto con la ma faccio un sogno premonitore che ci vede allontanarsi da questo luogo ok perfetto guys allora anche oggi abbiamo fatto un sacco di roba sinceramente panforte comunque io non me l'aspettavo con il suo fiore della zoia in che senso come gioco il gioco è strateso eh è fighissimo Colossal ragazzi ce so che uno lo vede dice tutto ah com'è carino tutti questi che si ragazzi c'è uno scheletro enorme straincazzato qua nel mezzo è una tipa con un braccio bionico con un come si chiama un forte braccio oh porca miseria con un brand di torre sul sulla schiena cioè va ben tutto ma è bello incazzato sì sì è così io ho fatto un svariate svariate sessioni ma non sono ancora arrivato ragazzi non sono ancora arrivato sulle sommità e non mi capita di rafresciare il mazzo oppure mi esce mi è uscito il nove il tre scusatemi per per caratteristiche random quindi è un casino è un casino però è molto divertente c'è un'avventurazza enorme ho quasi completato tutto tutto il diario ci sto giocando proprio come un pazzo bene spero che che ne sono due e mezza perfetto spero che vi siete divertiti con me con questa nuova sessione di Colossol a o che bel Colostello Martendiron di Nondello Colossol è per chi non lo sapesse un gioco di ruolo in solitaria adesso però sono uscite le regole per due giocatori con le terre stanze che aumenta le classi aumenta la campagna è gigantesco tre stanze è tipo tre quattro volte il manuale base proprio bello 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 grande spero che vi siate divertiti noi torniamo martedì prossimo con appunto ma che bella con questo episodio qua gli episodi della settimana gli appuntamenti della settimana sono domani con un mercoledì la fabula giovedì con terror target giovedì dove andiamo avanti a scrivere la nostra campagna venerdì io non ci sarò forse valdiamo se vuole Pedro fare qualcosa perché ho con Marco un pranzo di lavoro con un nostro partner ma vi ricordo cosa molto molto importante che Matteo sabato si trova qua aspetta che vedo di recuperarlo è uscito sul telegram sul nostro telegram l'evento secondo che lo recupero ragazzi che non mi ricordo come si chiama telegram eccolo qua Arcadia Vision l'episodio 0 di un nuovo evento l'alba di una nuova visione un'intera giornata dedicata alla cultura pop alla tresmedialità all'arte al gioco al multiverso in cui tutto questo si incontra questo è Arcadia Vision secondo che lo apro con voi scusatevi su telegram così ve lo faccio vedere gran web eccolo qua no non riuscite a vederlo quindi pazienza ve lo leggerò io allora sabato 17 giugno il cinema Arcadia di Melso prende vita e sfonda la parete dello schermo ospitando un evento in cui alle proiezioni cinematografiche si alterano una mostra diversi stand a tema e diversi panel che avranno come protagonisti numerosi ospiti a rappresentare i vari rami del multiverso creativo e multimediale un'occasione imperdibile per ragionare insieme a professionisti del settore sull'evoluzione del linguaggio di cinema fumetti giochi di ruolo animazioni videogiochi libro game scopri qui tutti i dettagli i dettagli sono su Bad Taste bello giro qua per noi ci sarà il nostro Pedro ci sarà Fabio Guaglione Roberto Recchioni Luca Mazzocco Emanuele Boccanfuso Andrea Bellusci Maurizio Temporin Giovanni Timpano Matteo Pedroni Mauro Uzeo Adriano Barone Francesco Mortarino Scuola Interassuale di Comics di Brescia Davide Gianfelice Fabrizio De Doride Luca Maragno e Watari Studio sono dei grandi devastanti mi sembra una cosa molto 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 figa quindi questo questo weekend questo sabato al cinema all'Arcadia di Melso quindi se riuscite ad andare andateci perché ne vale veramente veramente la pena signore e signori detto ciò io vi lascio che vado a mangiare qualcosa questo pomeriggio sarà molto 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 intenso questa sera ci sarà la nostra sessione di Debriche sul sul nostro canale sul nostro sui nostri server discord se qualcuno vuole venire ad assistere dopodiché domani appunto torniamo vedo se già domani si riesca a fare qualche sessione giovedì terro targhe gemini venerdì ci sarà più da fare qualcosa e sabato questo quindi una settimana bella piena di di eventi vi ricordo invece che tra dieci giorni siamo al Bergamo Comic Con tra una settimana andiamo giù giovedì giovedì siamo giù ad allestire quindi sarà molto 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 divertente quindi chiunque ci sarà avremo tavoli demo a manetta quindi un bel po un bel po di cosettine domani sera ma vediamo domani come vediamo se siamo liberi possiamo giocare qualcosa ragazze e ragazzi io vi ringrazio miei cari non attrici datori spero vi siate divertiti è stato molto bello stare con voi vi auguro di passare un buon pomeriggio un buon lavoro vi auguro questa sera di ruolare duro sempre noi ci vediamo domani a un mercoledì da fabula e se qualcuno vuole venire questa sera sul server del nostro discord a giocare a The Bridge noi siamo lì a giocare se qualcuno vuole venire a vedere curioso è aperta a tutti grazie mille a presto e soprattutto grazie per il vostro continuo sostegno vediamo se c'è qualcuno che possiamo raidare pa 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 mostra di più ma non c'è aaa 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 vediamo un pochettino no ragazzi scappo scappo alla velocità della luce vi do un abbraccio e ci vediamo o questa sera o domani ciao a tutti grazie 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 a tutti